Vino, cultura, arte, natura e solidarietà, gli ingredienti della due giorni di Cantini Aperte alla Cantina Zaccagnini di Bolognano. Cantini Aperte è l'appuntamento più amato dagli appassionati del settore e non solo a cura del movimento, del turismo, del vino in programma a fine maggio anche in Abruzzo. In tanti hanno scelto la Cantina Zaccagnini a Bolognano per la qualità dei vini, per la bellezza del paesaggio, per l'arte e la cultura che da sempre contraddistinguono l'azienda del patron Marcello. L'arte del vino in tutte le sue declinazioni per la storica cantina che vede amici tanti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport. Zaccagnini si distingue per gli eventi di prestigio che porta avanti, come il premio Prisco e il traccetto dell'amicizia. Da alcuni anni a questa parte, spiega Gianluca Zaccagnini, responsabile marketing. Cantini Aperte si colora di tante sumature, musica, degustazioni, visite guidate in cantina, creatività, solidarietà in favore dell'AIL, l'associazione contro le leucemie. Anche quest'anno da tutta la regione, da tutta Italia, anzi da tutto il mondo, hanno scelto Zaccagnini per trascorrere in maniera piacevole e spensierata questo weekend di maggio, nonostante la domenica di pioggia. Gianluca Zaccagnini, di certo la pioggia non vi ha spaventati e tra l'altro tanta la gente, noi abbiamo intervistato moltissime persone di tutta, da tutta Italia, ma anche moltissime persone dall'estero. Infatti la cosa bellissima è che nonostante il tempo incerto con la pioggia, le persone diciamo tra virgolette non mollano, è come un vero abruzzese che è tenace, che è determinato, le persone qui a Cantina Aperte non mollano e vengono qui a degustare una selezione dei nostri prodotti e fare la visita in cantina. Poc'anzi hai intervistato persone che vengono dalla Svezia, Norvegia ed è bellissimo, è un orgoglio e un vando abruzzese. Abbiamo chiesto loro cosa vi è piaciuto di più, loro ci hanno detto vabbè la natura, l'accoglienza, il vino, ma anche l'arte, la cantina, il modo di fare il vino, l'abruzzo e sono rimasti incantati soprattutto coloro che vengono da fuori, abruzzo da fuori Italia. Assolutamente la comunicazione, il binomio vino-arte, infatti il nostro slogan è il vino-arte dell'uomo che nacque tutto il 13 maggio 1984 quando venne Joseph Beuys, che è un tedesco, un maestro tedesco di fama mondiale che venne qui e piantò circa 100 piante di olivo a difesa della natura e da lì c'è stato un susseguirsi di eventi a livello artistico ed è bellissimo vedere che queste persone tutt'oggi apprezzano la nostra accoglienza, la formazione dei nostri ragazzi perché alla fine noi siamo una grande famiglia. Tutto è nato da questa piccola località abruzzese nel 1978, cantina a conduzione familiare che poi è cresciuta tantissimo e ci sono esportazioni di vino in tutto il mondo, abbiamo visto prima gli svedesi, come conosciamo Zaccagnini? Ed è fantastico, è bellissimo per noi ma soprattutto per il territorio abruzzese, volevo fare un applauso a tutte le cantine che quest'oggi stanno affrontando nonostante il tempo, cantina aperta, per due giorni di cantina aperta che è davvero importante per la regione Abruzzo e il movimento del turismo vino Abruzzo deve essere orgoglioso, nonché Nicola D'Auria, Idora Sarchese è presidente del movimento turismo vino Italia, quindi per noi è davvero importante avere un abruzzese a capo del movimento turismo vino Italia, per noi è emozionante vedere persone che conoscono un pezzo di territorio come Bolognano in Svezia e in Norvegia, noi esportiamo 85% all'estero, diviso in 49 paesi. Quali sono i paesi in cui esportate di più? Primo su tutti è USA, una settimana scorsa è uscito su One Enthusiast che è il terzo magazine più importante in America, la top 10 mondiale dei vini rosè e c'era anche il nostro tralcetto Cerasuolo che è preso in 91 punti, a New York il tralcetto Montepulciano è uno dei vini italiani più bevuti. Eccellenza, passione e dedizione, queste le parole d'ordine della Cantina Zaccagnini? Per noi sì, quello che ci ha trasmesso mio padre Marcello Zaccagnini è che con la perseveranza, con la determinazione e soprattutto con la scelta dei collaboratori è fondamentale e bisogna raggiungere tutti insieme, tutti i coesi un obiettivo, ovvero quello di esportare i valori abruzzesi del territorio, di Bolognano ma anche da una visione aziendale. Ci sono poi gli appuntamenti legati alla Cantina Zaccagnini, appuntamenti con lo sport e con la cultura, ricordiamoli anche se li conosciamo ormai tutti. Sì, noi durante l'anno abbiamo il tracettone amicizia, abbiamo il premio Prisco, in onore dell'avvocato Giuseppe Prisco che venne a mancare nel 2001, quest'oggi siamo giunti alla 17esima edizione e ogni anno premiamo il miglior allenatore, dirigente e calciatore che si è contraddistinguo durante l'anno calcistico. Vi racconto un aneddoto, io essendo interista da piccolino scrissi una lettera all'avvocato Prisco, che lui era uno degli avvocati più illustri a Milano, nonché ex vicepresidente dell'Inter, e scrissi una lettera in quanto da piccolino mi prendevano in giro, tra virgolette, perché essendo interista l'Inter non vinceva mai. E scrissi, caro avvocato, come è possibile? Io non riesco più, voglio cambiare squadra. Ho detto, ma chissà se mai mi risponderà. Alla fine mi ero esposto. Ho detto, caro Gianluca, nella vita devi perseverare in quello che credi, in condeterminazione, e vedrai che gli obiettivi pian piano li raggiungeremo. E aveva ragione. E poi tanti personaggi del mondo, dello spettacolo, della cultura, ovviamente anche dello sport, che sono venuti qui e sono amici tuoi e di Papa Marcello. Sì, qui sono passati diversi personaggi. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, però sono passati tantissimi. Ad esempio, un Gigi Proietti, Fabrizio Frizzi, Bal Spencer, Massimo Morati, Roberto Baggio. Quindi tanti personaggi che poi non sono venuti qui e sono scomparsi nel nulla. Cioè nel senso che si sono poi legati al territorio, ma soprattutto alla cantina Zaccagnini, alla visione della cantina Zaccagnini. Quali sono le domande che vi pongono di più? Le domande più frequenti sono come siamo riusciti a creare dal nulla tutto ciò. Noi non siamo ereditieri di terreni, non siamo... Io sono la terza generazione, sto portando piano piano, passo dopo passo, quello che mio padre ha creato questo impero. Però è una storia italiana, mio padre faceva l'operaio, staccava la sera nel senso alle nove, poi andava direttamente sui vigneti a coltivare, non i vigneti o il terreno, a coltivare il suo sogno. E poi non dimentichiamo le opere d'arte che ci sono qui. Prima abbiamo citato Bois, ma ci sono anche altri artisti che hanno, come dire, decorato, se così vogliamo dire, la cantina Zaccagnini. Sì, noi all'interno e all'esterno dell'azienda abbiamo diverse opere d'arte come Franco Suma, Pietro Cascella, Dino Colalongo, Bizzan Bassiri, David Bade. Quindi sia all'esterno che all'interno dell'azienda abbiamo un patrimonio dell'arte davvero notevole. Quando dico che vino è arte non è prendere un calice di vino e abbinarci un quadro. Ci deve essere una storia dietro, saperla raccontare, saperla strutturare. Perché il vino è arte, il vino è cultura, il vino è storia. Quindi anche gli astemi possono venire qui a Cantina Zaccagnini. Assolutamente, qui la cantina è aperta a tutte le persone che vogliono visitarci anche soltanto per rilassarsi, a prescindere dal tempo, ma che vengono qui possono rilassare, possono godersi di queste bellissime montagne che ci circondano. Non a caso il nostro slogan è il vino è arte dell'uomo ideato da mio padre. Anzi, oggi la giornata è piuttosto suggestiva, devo dire. Sì, davvero particolare, però ripeto, come ho detto poc'anzi, nonostante il tempo un po' così le persone non hanno abbandonato, nel senso sono venute a trovarci come ogni anno. Progetti per il futuro, come si dice? Progetti per il futuro, a breve apriremo un Resort Wine con otto camere luxury, che il nostro obiettivo non è farci business con questa struttura, ma accogliere un importatore che viene da lontano, lo mettiamo in questa struttura adiacente all'azienda che può degustare i vini da nata e quindi amalgamarsi col territorio e con la cantina. I prossimi obiettivi per quanto riguarda i paesi da, virgolette, colonizzare per il vino, parliamo dei paesi oltre Italia, internazionali e magari anche oltre Europa. I paesi da colonizzare noi facciamo un primo passo, il primo passo è quello di fidelizzare al senso le persone che già ci amano, che già sono i nostri clienti, quindi tenersi strette queste persone che vogliono, al senso tenersi strette la visione della cantina di Zaccagnini e in più poi passo dopo passo vogliamo conquistare, diciamo, tra virgolette tutto il mondo e far scoprire la nostra realtà. Mi sa che è l'entusiasmo che muove tutto, vero? Assolutamente, noi siamo una grande famiglia, tutto nacque per volontà di mio padre, della mia famiglia, di mia madre, di mio nonno, anche grazie all'aiuto di un enologo davvero importante che è il mio zio Concezio Marulli. Tutti i coesi siamo andati avanti passo dopo passo, anno dopo anno a raggiungere questo obiettivo, ma noi costantemente investiamo sul territorio, investiamo sulle persone, sulla formazione delle persone, quindi crediamo nella nostra famiglia, che noi siamo una grandissima famiglia. Voi siete anche molto attenti alla solidarietà? Assolutamente, noi come ogni anno a Cantina Aperta facciamo beneficenza per l'Aile, con una bottiglia gonfiabile che le persone possono farsi una foto e lasciare un ricordino per la beneficenza. Per quanto riguarda i vini, avete qualcosa in mente? Per i vini abbiamo già una gamma abbastanza strutturata, abbiamo i Dessert Wine, abbiamo dei Cru, abbiamo dei vini standard, di entry level, abbiamo anche ultimamente, l'anno scorso è uscito il nostro metodo classico da Uwe Montepulciano, abbiamo Spuon d'Extra Dry, quindi la gamma è vasta e può, nel senso, arricchire tutte le persone che richiedono una tipologia di vino. Zaccagnini è? Zaccagnini è passione, dedizione e colore, nonostante questo tempo un po' grigio, però è colore, perché noi vogliamo essere dinamici, è sempre all'avanguardia. Ricordiamo, anche se lo sanno tutti, però ricordiamo dove si è? Noi siamo a Bolognano, in provincia di Pescara. Ovviamente avete un sito internet e anche una pagina Facebook molto curata. Sì, sì, noi siamo molto attenti alla comunicazione e alla cura del minimo dettaglio, infatti facciamo un advertising davvero particolare per attrarre le persone, cantina. Zaccagnini.it e lì ci sono tutte le nostre campagne pubblicitarie, tutte le nostre news e tutti i nostri prodotti. Gianluca, un brindisi agli abruzzesi e a chi? Un brindisi a tutti noi, un brindisi all'Abruzzo, a tutte le persone che credono nel vino. Come dire, in bocca al lupo vive l'Uwe? Assolutamente, quindi un brindisi a tutti. La pioggia non vi ha scoraggiati e siete venuti qui da Zaccagnini? Sì, assolutamente, veniamo da Roma e è stata una bella esperienza, prima volta per noi da Zaccagnini e riconfermeremo l'anno prossimo, sicuramente, ripeteremo. La prima volta da Roma a cantine aperte? Noi siamo abruzzesi, viviamo a Roma, però è la prima volta da Zaccagnini. Di dove? Di quale parte? Di Vesco Costanzo, quindi Abruzzo, Montanaro, Doc. Bellissimo, Vesco Costanzo, dove tra l'altro c'è stata la neve fino a poco tempo fa. Il 6 maggio ha nevicato, esatto. Cosa ti è piaciuto di più di questa esperienza qui a Zaccagnini? Sicuramente la storia e l'architettura della cantina, cantina moderna ma che rispecchia canoni antichi delle vecchie cantine degli anni 70-80. Qual è la cosa che ti ha incuriosito di più? Sicuramente le opere d'arte, come è tenuta la cantina e l'architettura e il tutto, mi ha sorpreso molto. Vino, quale preferisci? Clematis, mi hanno spiegato ora la storia, l'ho assaggiato al Vinitaly, riproduzione ridotta, però veramente eccellente. Anche tu da Roma, anche tu abruzzese? Sì, origini abruzzesi, anche io vicino a Pesco Costanzo, Palena. Località montana sempre. Montanare, però da Roma siamo venuti, nonostante la pioggia. Vi manca l'Abruzzo? Sì, siamo fedeli alle tradizioni e alle radici. Buon proseguimento. Allora, qui abbiamo, immagino, dei cittadini che italiani non sono. Nella cantina Zaccagnini abbiamo una casa caramanico terme, ci piace il vino, il cibo, la gente. Grazie mille. Grazie mille. Il fatto è camminare, la natura, il vino, il cibo, la gente. Tu parli molto bene l'italiano. Noi studiamo l'italiano la sera, in Svezia, sì. Per voi non è difficile la nostra lingua? Molto difficile. Beh, pure lo svedese è difficile, sì. E com'è Zaccagnini? Ti piace Zaccagnini, la natura, la pioggia? La vista è molto bella, il vino è benissimo. Hai sfidato la pioggia per venire da Zaccagnini? Immagino che è un piacevole evento, un piacevole evento che si ripete di anno in anno. Sì, sicuramente. Poi Zaccagnini, comunque, durante Cantina Aperta, insomma, è tra le cantine più belle da visitare. Quest'anno non c'è il concerto a causa pioggia, però di solito investe anche in questo. Francesca De Marinis in Arte Scartel, che ha realizzato quei bellissimi fiori particolarissimi che abbiamo lì dietro e che non appassiscono nemmeno con la pioggia? No, assolutamente no. E poi ci sono anche i carciofi, sempre fatti con le bottiglie, quindi tutto riciclo. E niente, in questa bellissima location che è la terrazza di Zaccagnini, che mi ha ospitata. Quando si dice arte sostenibile, arte dai rifiuti addirittura? Sì, io sono un po' di anni che faccio queste cose, però adesso diciamo che da uno o due anni è scoppiata proprio questa discussione sulla plastica. E quindi è proprio il loro momento, insomma. Era l'anno giusto per fare questo lavoro e approfittare delle cantine aperte. Tra l'altro bellissimo, un tocco di colore in questa giornata grigia. Mi spiace che purtroppo non c'è il sole, però insomma... Ci sono i fiori e i carciofi. Ci sono i fiori e ci accontentiamo che non piova, che è già tanto.